Aggiornamento di Calcio Mercato Inter dedicato a Tomas Palacios perché alla fine dopo una lunga ricerca potrebbe essere davvero lui il colpo in difesa con cui andare a completare la rosa di Simone Inzaghi almeno di clamorosi colpi di scena delle ultime ore e soprattutto il colpo con cui accontentare l'allenatore che ha richiesto a gran voce l'arrivo di un difensore Mancino e lo ha richiesto anche Alessandro Bastoni tra l'altro. Non è un'operazione ancora chiusa non è un'operazione che si sta già definendo in questo momento ma si sta lavorando proprio in queste ore la dirigenza del club argentino dove si trova in prestito tra l'altro sta per sbarcare in Italia segno questo di una trattativa che comunque va avanti l'Inter sta cercando di anticipare la concorrenza e allora parliamo di questo giocatore di cui in Argentina mi hanno parlato davvero un gran bene con alcuni dettagli da tenere sotto osservazione. È un'operazione sicuramente molto interessante ma posso dire che c'è qualcosa che non mi torna tanto in questo tipo di affare. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi allora ben ritrovati amiche amici passioni interisti vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. clic subito sul tasto iscriviti stiamo volando verso i 70.000 iscritti e ci serve il vostro supporto come sempre in questo format partiamo dalle notizie e le ultime notizie sono importanti perché Palacios intanto non è stato convocato per l'ultima gara di campionato e l'allenatore stesso ha confermato che dietro a questa decisione ci sono motivi di mercato perché il giocatore è al centro di una trattativa e sta per cambiare squadra. Ci sono diverse società tedesche interessate si è parlato molto dell'Ipsia ma anche Stoccarda, Borussia Mönchengladbach e non solo quindi squadre che possono anche arrivare ad offrire 8-10 milioni di euro per il cartellino del giocatore mentre mi hanno detto che alcuni intermediari avrebbero cercato di sondare qualcosa anche in Spagna e in Inghilterra per cui c'è fermento attorno a questo calciatore su cui però l'Inter si è mossa concretamente e si è portata avanti. Chiaramente deve fare in fretta deve chiudere l'operazione. C'è una situazione contrattuale molto particolare perché il Tacera è la squadra che controlla il suo cartellino e lo ha ceduto in prestito all'independiente Rivadavia che però può comprare nell'immediato il 50% del cartellino e poi sembra l'altro 50% tra un anno. Quindi è una situazione molto molto particolare. C'è un po' di confusione attorno a questa vicenda perché qualcuno dice che l'Inter allora sta trattando solo col Taceras, qualcuno dice che sta trattando solo con l'independiente, qualcuno dice formula ancora non meglio precisate. Dall'Argentina comunque sostengono che sia in arrivo l'independiente in queste ore proprio a Milano per trattare direttamente con l'Inter e quindi l'Inter sta portando avanti questa trattativa con loro. Sembra sulla base di un'offerta da circa 6 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita che potrebbe andare a far completare l'operazione, una percentuale che l'Inter vorrebbe tenere molto bassa sul 5 o massimo 10% perché altrimenti rischia di diventare di fatto una comproprietà e invece l'Inter vuole prendere il giocatore. A fare la differenza alla fine per gli ultimi dettagli potrebbe essere anche la volontà stessa del giocatore e con tutto il rispetto per società come Stoccarda e Borussia Mönchengladbach io penso che tra loro e l'Inter a meno che non gli offrano molto di più di ingaggio sceglierà l'Inter. E quindi siamo siamo in un colpo non ancora chiuso ma in un momento molto caldo per questa trattativa con l'Inter che a 10 giorni alla fine del mercato deve accontentare Inzaghi con questa richiesta che è stata condivisa da tutti anche dai dirigenti. Chi è Thomas Palacios? Che giocatore è? Ci siamo informati, abbiamo seguito tanti video, tante immagini, abbiamo parlato con degli esperti che lo conoscono. Partiamo come sempre dalla scheda Transfer Market, nato il 28 aprile 2003 quindi ha già compiuto 21 anni, alto 1,96 m, nazionalità argentina, come detto in questo momento si trova in prestito all'independiente Riva Davia dopo essere cresciuto di fatto nel settore giovanile del Tageres con cui è arrivato a debuttare anche in prima squadra. Difensore di piede Mancino, Transfer Market lo valuta a 500 mila euro ma sappiamo bene che queste valutazioni di Transfer Market sono molto molto da prendere con le pinze. Tre presenze con l'Under 20 Argentina quindi ha iniziato dall'Under 20 ad entrare nel giro delle selezioni al B Seleste. Tre presenze come detto, poco più di 1600 minuti giocati tra tutte le competizioni tra i professionisti dal 2022 ad oggi. Quindi possiamo parlare di un giocatore ancora molto emergente nonostante comunque sia giovane, 21 anni ma non giovanissimo. Mi hanno detto poi che ha iniziato la carriera in una fase da attaccante soprattutto perché quando è cresciuto molto in altezza lo hanno cercato di sfruttarlo come centro avanti. Poi piano piano lo hanno arretrato a fare il centrocampista, qui ha acquisito anche un po' quelle doti di impostazione che chiaramente di solito aspettano i centrocampisti. Alla fine poi unendo queste cose le caratteristiche anche atletiche e fisiche hanno deciso di portarlo a fare il difensore perché con quella fisicità e dopo aver fatto anche gli altri ruoli poteva davvero unire tutto insieme quelle che sono le caratteristiche di un difensore molto moderno anche per interpretare il ruolo nella maniera in cui oggi si richiede. Oggi infatti secondo me è un difensore, per come lo vedo io, ad oggi è ancora un difensore mancino di una difesa a quattro, un centrale di una difesa a quattro che gioca sulla sinistra. Più di recente però ha cominciato a giocare anche da terzo a sinistra in una difesa a tre, cioè nel ruolo di bastoni di fatto. È un ruolo su cui immagino si andrà a lavorare chiaramente anche nell'Inter nel caso in cui dovesse arrivare. Caratteristiche, che tipo di giocatore è? Me lo hanno definito come un difensore che appunto unisce forza fisica e tecnica. Con un metro e 96 la stazza è sicuramente importante ma anche con una buona tecnica. È abituato a impostare da dietro, a giocare da dietro ma soprattutto ad uscire dalle situazioni di pressione anche palla al piede. Quindi si prende anche questo tipo di responsabilità ed è bravo anche nei lanci lunghi e nei cambi di gioco. Quindi ha un buon piede anche per i cross e per i passaggi a lunga distanza. Tatticamente me ne parlano come un calciatore intelligente che impara abbastanza in fretta. Questo sarà sicuramente, dovrebbe essere un vantaggio visto che il salto dall'Argentina all'Inter è molto grande. Ho trovato anche dei dati piuttosto interessanti per definire Palacios che ci fanno capire ancora meglio come sta giocando per ora in Argentina. C'è da fare una piccola doppia premessa però su questi dati perché sono dati che per due motivi vanno presi un po' con le pinze o comunque con attenzione. Il primo fatto è che Palacios come detto ha giocato pochi minuti e questi dati che ho raccolto sono basati su 757 minuti giocati in campionato e nel campionato argentino. In tutto l'anno negli ultimi 365 giorni quindi avere dei numeri importanti diciamo che è più facile sul campione di pochi minuti. Se giochi di più essere molto costante è più difficile però è anche difficile giocare poco e incidere con dei numeri importanti. La seconda premessa è che i dati di Palacios poi sono confrontati con le varie piattaforme che utilizziamo noi, con quelli di tutti i difensori dei top 14 campionati al mondo cioè me lo mettono in percentuale sui migliori difensori dei 14 principali campionati al mondo che è un po' diverso la top 14 rispetto ai top 5 con cui di solito ragioniamo con i vari nostri giocatori. Però sono dati che più che dirci quanto è forte oggi Palacios ci dicono che tipo di calciatore è secondo me. E infatti questi dati ci dicono che intanto è nell'1% migliore dei difensori per dribbling effettuati, non tentati ma proprio effettuati cioè riusciti quindi è un giocatore che cerca tanto di saltare l'uomo e ci riesce quindi crea la superiorità numerica e esce dalla pressione anche con questa responsabilità che si prende. È molto sopra la media anche per palloni che porta nella metà campo avversaria quindi una buona conduzione di palla con qualità ed è sopra la media anche per tiri quindi è un difensore che si muove e che si porta anche al tiro, azioni che hanno portato ad un tiro della propria squadra quindi partecipa anche all'impostazione delle azioni offensive ed è molto sopra la media anche per cross riusciti quindi ha un buon piede anche per andare al cross e favorire i centri avanti. Mentre per passaggi tentati e riusciti devo dire che il sistema di gioco in cui fin qui si è mosso non lo ha molto favorito quindi è una squadra che non tocca tantissimi palloni soprattutto dal basso quindi non è sollecitato, non è abituato a giocare il gran numero di palloni che invece gioca bastoni. Ha dei dati difensivi molto molto importanti favoriti sicuramente anche dall'atteggiamento della squadra un po' più attento alla fase difensiva che quindi lo protegge di più però emergono dai dati una grandissima abilità negli uno contro uno e soprattutto nei duelli corpo a corpo quindi nei tackle, nei contrasti e anche nelle letture con gli intercetti quindi difensivamente già oggi è abbastanza una garanzia di livello per il campionato argentino è chiaro che poi dopo va testato anche ad alti livelli in Europa. Paradossalmente però la cosa che mi ha incuriosito è che nonostante sia alto quasi due metri di testa non è dominante come potrebbe essere un calciatore di due metri, anzi un po' è anche dato dal ruolo dove giocando da terzo sei meno sollecitato sui due allieri però il colpo di testa è un aspetto su cui può migliorare vista la struttura fisica. Nelle movenze, l'ho detto più volte, a me sembra un pochino screener nel vedere i video anche se devo dire che il paragone che in tanti fanno è più con bastoni come tipologia di giocatore sia per il ruolo che per la partecipazione alla costruzione anche se come detto rispetto a bastoni a me oggi sembra più marcatore e meno qualitativo. Poi il suo allenatore dice che è anche abbastanza veloce per quella che è la sua altezza, dai video che ho visto non mi è sembrato però ci fidiamo. Quindi un giocatore in definitiva molto interessante su cui possiamo andare in chiusura analizzando un po' i pro e i contro di questa operazione oltre ai dubbi che vi citavo all'inizio tra i pro sicuramente può essere un colpo alla Bissec visto che se ne è parlato tanto per età, per costi anche per fisico. Detto che Bissec aveva già decisamente più esperienza di Palacios oltre ad essere già in Europa, quindi è diverso. Ha le caratteristiche del difensore moderno e la forza fisica oggi secondo me è estremamente utile per il reparto difensivo e non solo. Fa molto molto la differenza. In questi giorni stiamo parlando per esempio anche dell'Atalanta, in questi giorni stiamo parlando guardate l'Atalanta quanti giocatori di forza fisica va a prendere e spesso fanno la differenza anche solo imponendosi col fisico. Numero 3, poi i costi sono abbordabili e quindi è una potenziale operazione da player trading che l'Inter deve fare sempre di più. Dall'altro lato, oltre alla poca esperienza di cui ho già parlato e di alcune cose su cui può migliorare, anche chiaramente nell'adattamento dall'Argentina all'Europa, il mio dubbio principale è legato proprio all'idea che c'è dietro questo tipo di colpo e mi spiego. Innanzitutto a me sembra che dopo aver provato a sondare più profili da Cabal, Fayet e tanti altri si sia scelto di cogliere più l'opportunità economica che tecnica cioè non si è guardato tanto al voglio quel giocatore e vado a prenderlo quanto al cosa posso comprare con questa cifra e vediamo il meglio che ci esce. Che per carità è giusto, va bene, però ecco mi scalda un pochino meno di un'operazione in cui individui il giocatore e lo vai a prendere. Poi sia Inzaghi che Bastoni hanno parlato anche in queste ore della necessità di avere un difensore mancino per affrontare tutte queste partite di questa stagione e mi chiedo, Palacios è la soluzione giusta in questo momento? Sarei francamente molto molto sorpreso nel vederlo subito impattante e subito impiegato. Bissek l'anno scorso che ripeto già era in Europa e già aveva più esperienza ha fatto tutto il ritiro con la squadra e lo abbiamo visto veramente poco in campo. Un ragazzo argentino che arriva a settembre praticamente sono curioso di vedere quanto verrà impiegato e tra quanto per cui ad oggi a meno che Inzaghi e lo stesso Palacios non ci sorprendono magari è un fenomeno davvero e incide fin da subito però secondo me prima di vedere Palacios vedremo alle spalle di Bastoni delle soluzioni adattate e Palacios quindi dovrà aspettare. Forse dovrà aspettare un tempo per cui alla fine ritornerà anche Buchanan e quindi poi lì ci sarebbe ulteriormente da interrogarsi però io ribadisco che fare operazioni futuribili è un'idea molto interessante perché oggi è una squadra forte, una squadra rodata che funziona quindi andare ad aggiungere dei giocatori giovani in questo sistema è più facile e riesci meglio a valorizzarli per cui ti puoi anche portare avanti con i lavori in vista del 2025 quando qualcosa in difesa dovrai toccare assolutamente e nel frattempo valorizzi un giocatore giovane per cui tutto bene e ok però qualcuno giustamente intanto qualcuno sollevava l'interrogativo sul quanto è giusto spendere lì in quel ruolo lì quei pochi soldi che è in questo momento quando potrebbero servirti dei rinforzi in altre parti alcuni citano il difensore centrale chi dice l'esterno destro chi dice la seconda punta qua evidentemente c'è anche l'idea di Inzaghi che per l'esterno secondo me pensa vadano bene Dumfries e Darmian altrimenti Darmian si poteva riadattare anche in difesa e fare altre operazioni e per la difesa centrale si fida di Acerbi e De Vrij. Palacios io spero di essere smentito e lo supporterò al massimo si arriverà assolutamente e benedico comunque operazioni di questo tipo ma ad oggi secondo me non risolve quelli che sono i problemi tra virgolette della difesa dell'Inter che sono stati evidenziati fino a qui e allora mi chiedo ancora di più se fai un'operazione così per il futuro con Palacios che si vedrà probabilmente poco quest'anno forse potevi farla anche con Carboni che è già tuo costa poco ha due anni in meno di Palacios addirittura ed è già nel giro del nazionale maggiore e tra l'altro non ti occupava nemmeno gli slot nelle liste Champions per cui poteva esserti in qualche modo utile per continuare a farlo crescere come giocatore in più e con caratteristiche diverse invece su Carboni hai preferito mandarlo al Marsia in un'operazione che per me rimane un'operazione molti dicono win win io non sono così convinto mi sembra anche questa un'operazione più che guarda i conti piuttosto che alla valorizzazione del giocatore ma sarò felice magari di essere smentito tra l'altro Palacios è anche extracomunitario quindi chiude gli slot agli extracomunitari per cui sfuma se arriva una eventuale operazione Jonathan David che qualcuno ha detto l'Inter potrebbe tentare nelle ultime ore se arriva Palacios dopo Taremi non ci sono più posti però ecco Palacios ok va bene la valorizzazione dei giovani va benissimo anche se gli ultimi anni ci hanno insegnato che il valore della società Inter è aumentato soprattutto grazie ai risultati sportivi risultati sportivi che hanno permesso di crescere di finanziare poi un rinnovamento che si sta cercando di portare avanti e abbassare sempre di più le perdite mentre la strada del player trading è più complessa soprattutto se l'obiettivo è quello di aumentare il valore del club per rivenderlo è una strada molto lunga ed impervia soprattutto con la diligenza attuale che è abituata a lavorare in un certo modo e questo secondo me a Doctriva ricordato fatemi sapere che ne pensate voi aspetto i vostri commenti so che ne arriveranno tanti li leggeremo nella diretta delle 19 30 ne parliamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti